Abbiamo avuto problemi con il mecapolo, questi sono i famosi intervisti che dovrebbero essere imprevedibili e non li abbiamo previsti per altri motivi, che poi vi diremo la prossima puntata. E' successo. Allora, intanto ringraziamo tutti per la vostra presenza e per averci onorato quest'anno. L'anno scorso è stato qualche problemino, abbiamo risolto quelli. Quest'anno è andato penso meglio dell'anno scorso, anzi sicuro, vista la vostra presenza. E quest'anno abbiamo avuto una variata a 70, 75 quasi, di atleti. Quindi un grazie principalmente a voi per essere venuti qua e per averci onorato. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione, ora qua il sindaco ci dirà due parole, Marco Giorgianni per averci dato tutto il supporto possibile. Ringraziamo Angelo Messina che è il nostro uomo di riferimento qua sul Vulcano, e ovviamente ringraziamo Santino De Pasquale, dov'è Santino? Santino De Pasquale che ci ha ospitato qui in questa meravigliosa piscina nel Vulcano Blue Residence, ha cercato di fare un'offerta e di venirci incontro in tutti i modi. Quindi il nostro punto d'appoggio. Ringraziamo Pietro Franza perché anche lui come punto d'appoggio, sia della zona cambio e tante altre piccole, grandi cose, è inutile menzionare, ci hanno dato il grande supporto. Quindi questi sono i ringraziamenti doverosi. Velocemente, una parola al sindaco. Prego, io intanto volevo tranquillizzare, due parole saranno veramente due, e quindi non vi faccio perdere troppo tempo. Al sindaco normalmente in questi casi spettano delle frasi fatte, però io volevo dirvi che noi siamo veramente gratificati dalla vostra presenza. Quindi i ringraziamenti non sono frutto di pochissia, siamo veramente contenti di questa opportunità, siamo gratificati della presenza perché per noi è un'occasione importante. Vediamo con piacere che siete aumentati, quindi speriamo di essere utili nel risolvere qualche problemino per cui siate sempre di più. Questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere e chiaramente, lo dico veramente, non è un ragionamento ipocrita, un grazie particolare agli organizzatori di questa manifestazione perché organizzare una cosa come questa già è difficile, organizzarla in un posto come un'isola minore è certamente più difficile. quindi sono votati quasi alla santità da questo punto di vista. Noi non possiamo che ringraziare loro che hanno organizzato e voi che avete partecipato. Speriamo che quest'anno sia andato un po' meglio dell'anno scorso e comunque se c'è qualcosa che non funziona o qualche piccolo risaggio che avete avuto noi chiediamo scusa sperando di risultare più adeguati la prossima volta che sarete di nuovo. Grazie. Grazie.